segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te allora non riconosce più la 7 attacca michele santoro dicendo che gli fa pena tristezza perché difende l'assassino di un putin che ormai è una versione sanguinaria e attaccato sandra murri eccetera insomma allora mi spiace no mi spiace che poi uno dice te lo spiego no ma mi spiace che non una non può dire la sua avrà la possibilità di dirla non la dice però adesso non mi ha attaccato ha fatto di peggio cioè lei ha messo in moto una vera macchina del fango nei miei confronti su twitter affermando delle cose di una pesantezza e guido lo sa perché devo dire che lei è insieme a tante altre paladina dei diritti delle donne ma l'unica persona che ha speso delle parole per difendermi è stato guido crosetto e a riprova di quello che io sempre sostenuto il punto è questo siccome la gebrale non c'è a me non piacciono i processi in contumacia anzi devo dire che vedendo il filmato io penso di essere onorata perché sei una persona così potente che va ad un festival organizzato con soldi pubblici e riesce a dire chi entra e chi non entra chi deve parlare chi non deve parlare questo punto io umile giornalista italiana ma qual è il punto non lo so il punto è che lei non condivide le mie opinioni ok c'è libertà di non condividerle questo non lo so però se mi fai un attimo un secondo soltanto allora lei la prima volta che io ero ospite qui che c'era solo ha pubblicato un tweet con la foto mia tua istudio dicendo questi sono i propagandisti ecco con chi parla io con chi parla lei con uno che ha detto di hitler che è una persona coraggiosa allora io siccome questa era una cosa di una pesantezza incredibile che se l'avesse detta sarebbe stato gravissimo io ho scritto a sole ma ve gli ho chiesto conto di questa affermazione e lui mi ha detto no mi hanno calugnato fatto causa una giurista tedesca non ci credo detto io mi mandi le carte e lui mi ha mandato la sentenza che io ho preso e gliel'ho pubblicata lei ha tutta risposta il giorno la puntata dopo ha ripubblicato la mia foto la tua istudio con solo e dicendo tirando fuori prendendo notizie da un blog di felippo facci che sallusti conosce bene perché scrive per libero che definire spazzatura e niente sul mio conto e concludendo così ecco il giudizio dei giudici italiani sul mio conto di scarsa credibilità soggettiva e professionale si capisce perché va d'accordo con solo aveva cioè dicendo che facendo finta si capisce benissimo lei ha voluto denigrare e delegittimare lascia stare questo usando un documento non vero ma quale documento questa è un'opinione sua che lei ha fatto intendere che fosse dei giudici italiani sul mio conto hai capito ma se non lo spieghi non lo capisci a chi le chiedeva conto ma scusi questa è una sentenza lei non ha più risposto ha continuato a prendere stracci va bene allora io sugli stracci posso dire una cosa di questo ce la vediamo in tribunale quello che non è accettabile e dire cose che non sono vere salusti direttore questo molire una persona le opinioni si contrastano non si deve poi che tu vada d'accordo con solo su questo ha ragione salusti sono d'accordo con solo si spesso sei d'accordo d'accordo vuol dire condividere delle cose la collega